E' uno degli appuntamenti più partecipati a tisi dell'estate per gli arbitri italiani. E' la Coppa Campioni AIA arrivata alla settima edizione. Un evento che raccoglie 15 sezioni di 15 città italiane per 300 persone tra associati AIA e loro familiari che raggiungeranno Arezzo nel prossimo fine settimana, quello della giostra del Saracino in edizione notturna. Il sorteggio ha prodotto queste composizioni Milano, Cagliari, Michelino, Mestre, Bologna, Perugia, Reggio Calabria, Nola, Reggio Emilia, Albano Laziale, Fermo, Ravenna, Pisa, Salerno e Ancona. E' una manifestazione di calcio a 5 alla quale sono invitate quest'anno 15 sezioni rappresentanti di 15 città italiane. Percorrono un po' tutta la penisola perché basta pensare che abbiamo Reggio Calabria, che abbiamo Salerno, che abbiamo Nola, che abbiamo Salerno ancora, Albano Laziale, Cagliari, Perugia, Pisa, Bologna, Ravenna, Reggio Emilia, San Benedetto del Tronto, Fermo, per Milano, Michelino e Mestre. Quindi voglio dire, possiamo ben dire che l'Italia è tutta rappresentata. Sono colleghi arbitri che giocano a calcio a 5 ma che vengono anche per visitare la nostra città, per assistere alla giostra del Saracino e non a caso sabato sera sono in tribuna i dirigenti delle sezioni e tutti i ragazzi che partecipano all'evento calcistico sono in piedi ad applaudire i vari quartieri. Le partite si svolgono nei campi della Cittadella dello Sport di Arezzo, l'Arezzo Academy e l'Occhi Verdi. Le qualificazioni già da venerdì pomeriggio e tutto il giorno di sabato. Le finali domenica mattina presso l'Occhi Verdi di Arezzo. La conferenza stampa di presentazione della Coppa dei Campioni AIA è servita anche per scambiare qualche parola con un altro dei talenti prodotti dalla sezione aretina degli arbitri, un assistente che dai campi di periferia è arrivato fino ai grandi palcoscenici della Serie A. Fa un certo effetto, partendo dai campi di periferia, immagino ricordo il tegoleto, la pietraia, i campetti di periferia in questo senso, ritrovarsi in stadi come Marassi, San Siro, l'Olimpico, fa un certo effetto, anche se l'effetto passa subito col fischio d'inizio, da lì in poi ritorna come nei campetti di periferia, concentrazione, lavoro e divertimento. Sicuramente è un mezzo che ci aiuta tantissimo, elimina gli errori gravi, gli errori importanti, quindi non è altro che un aiuto e un paracadute, come dice il nostro designatore Rizzoli, un paracadute, il portiere che si frappone praticamente con l'attaccante pronto a segnare a rete e ci dà sicuramente una grossa mano per risolvere le situazioni più difficili, quello sicuramente.